Deciso Bonera, scaraventa il pallone in profondità, si è avventato Ibrahimović su questa mina vagante, su questa sfera, il tiro d'Ibra, la rete! Ibrahimović! Un gol spaventoso di Zlatan Ibrahimović, che è andato a controllare un pallone che sembrava inoffensivo in mezzo a due avversari. L'ho fermato con il petto, dalla lunga distanza lo ha calciato con il sinistro, sotto l'incrocio dei pali, dalla parte opposta, nulla da fare per Rosati, capolavoro!